Diventare segno, canali e testimoni della misericordia di Dio. Questo è l'invito di Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale in Piazza San Pietro, incentrata sul brano di Luca, misericordiosi come il Padre, motto dell'Anno Santo. Non uno slogan ad effetto, ha detto il Pontefice, ma un impegno di vita, un tendere alla perfezione che ha uno sprone ad essere pieni di amore, di compassione e di misericordia. Un cammino che è una strada di santità, percorsa da uomini e donne che hanno dato corpo all'amore del Signore, riversandolo nelle molteplici necessità dell'umanità sofferante. La misericordia, evidenziato il Papa, si esprime nel perdono. Tutti siamo stati perdonati da Dio e siamo chiamati a fare lo stesso. Nessuno ha il potere di condannare il fratello, di parlare male, ma ha il dovere di recuperarlo e accompagnarlo nel cammino di conversione. Misericordia è anche dono, perché saremo giudicati dall'amore che diamo. Nella misura in cui si riceve da Dio, ha detto Papa Francesco, si dona al fratello e nella misura in cui si dona al fratello, si riceve da Dio. Ma non dimenticatevi di questo. Misericordia è dono. Perdono è dono. Così il cuore si allarga, si allarga nell'amore. Invece l'egoismo, la rabbia, fa il cuore piccolo, 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 piccolo e si indorisce come una pietra. Cosa preferite voi? Un cuore di pietra? Vi domando. Rispondete. Non sento bene. Un cuore pieno di amore? Sì. Se preferite un cuore pieno di amore, siate misericordiosi. Prima dell'udienza generale, Papa Francesco ha salutato i malati che hanno seguito la catechesi in Aula Paolo VI. Grazie a tutti.